Ed ora è arrivato il momento di ospitare sul palco del Meeting del Mare i ragazzi del Laboratorio 31. Chiamiamo Vincenzo qui. Chiamiamo i ragazzi del Laboratorio 31 che come già vi abbiamo detto ieri e vi avevamo anticipato è una cooperativa, è una rete di associazioni che si occupano del sociale lasciamo che siano stessi loro a presentarvi i progetti che ci portano stasera qui sul palco del Meeting del Mare. Buonasera a tutti, anche stasera abbiamo l'opportunità di fare questo intervento. Il Laboratorio 31 è una rete di associazioni anche di singoli soggetti, di studenti che si occupa di creare dei luoghi alternativi, anche degli eventi che possano in qualche modo cercare di risvegliare un po' l'animo soprattutto dei giovani ma soprattutto anche risvegliare un po' la voglia di trattare delle tematiche un po' difficili e purtroppo molte volte invisibili quali quelle dell'immigrazione, problemi sociali, la xenofobia, tutti i problemi che purtroppo oggi non vengono assolutamente trattati né dai giornali né tantomeno nelle scuole. Stasera quali particolari problematiche ci presentate? Allora noi alle 18 abbiamo proiettato due documentari che sono No Border realizzato da Radio di Massa e il documentario Il Tempo delle Arance realizzato da Enzo TV. Questa sera abbiamo invitato sia a Radio di Massa che a Enzo TV e lascio a loro un po' presentare il video e anche la loro attività sul territorio. Ok, allora Daniele ci introduce le problematiche trattate dal documentario No Border. Ok, ciao a tutti, noi siamo Radio di Massa, trasmettiamo dal terzo piano della facoltà di lettere e filosofia è uno spazio occupato e abbiamo presentato oggi pomeriggio un video che si chiama No Border, un video appunto sull'immigrazione preparato in occasione del primo marzo che è lo sciopero dei migranti. Noi siamo una radio aperta a tutti, ovviamente abbiamo una policy che credo sia condivisibile da tutti anche perché sono tre semplici norme del buon vivere civile, siamo una radio antirazzista, antisessista e soprattutto antifascista, quindi qui vogliamo anche portare oggi il tema dell'invisibile quindi per noi gli invisibili possono essere quelli che sono le persone sfruttate, gli immigrati, i clandestini e tutti coloro che vengono, come dire, vengono totalmente denigrati esatto, vengono denigrati e vengono totalmente messi... Quindi sul problema dell'immigrazione oltre al documentario che avete presentato prima nel cantiere visivo c'è anche l'esperienza di Nicole che ci ricorda la spiacevole questione di Rosarno sul tema dell'immigrazione. In SuTV è una realtà di Napoli, una telestreet napoletana e durante i giorni delle rivolte a Rosarno siamo stati a Rosarno per raccontare cosa stava accadendo, cosa la televisione, la comunicazione mainstream non stava raccontando a Rosarno, quindi le storie di quelle persone che sfruttate ogni anno quest'anno avevano reagito, avevano reagito contro i loro sfruttatori, i loro datori di lavoro che non li pagavano da giorni e avevano preso la parola, per cui rientrava anche questo raccontare queste storie era alla fine fare quello che ogni giorno fa la televisione perché la televisione... Quindi un modo anche per rendere visibile l'invisibile? Sì, appunto, gli invisibili, i diritti di questi invisibili ma anche invisibile la comunicazione per questo nasce questo progetto, questo progetto video che a Napoli poi lavora in rete con altre strutture, con radio di massa, radiazioni che fanno comunicazione ogni giorno una comunicazione libera e indipendente. Ringraziamo i ragazzi del Laboratorio 31 e li ospiteremo ancora domani, vero? E concediamo... Prego. Sì, volevo ricordare che tutti quanti potete recarvi nel cantiere visivo dove c'è lo stand del Laboratorio 31 per apporre la firma contro la privatizzazione dell'acqua, abbiamo un banchetto, ieri sera abbiamo avuto anche un esperto del Comitato di Salerno, quindi vi invito a firmare per chi non avesse firmato tutti i maggiorenni della provincia di Salerno e in più ricordo che per vedere i documentari che siano stati proiettati alle 18, li potete recare sempre nel cantiere visivo dove ci sarà un schermo al plasma dove verranno proiettati questi documentari fino alla fine della serata. Quindi salutiamo con un grande applauso i ragazzi del Laboratorio 31.